Il termine arabo. Che cosa significa il termine arabo fitna? Commento. Significa disordine, con cui si ricorda la disputa tra gli sciiti e i loro avversari, dalla quale derivano le prime grandi divisioni interne all'Islam. È il disordine che avviene per insufficiente evoluzione, anche a livello dei singoli, e che i maestri chiamano separatività.